Buonasera a tutti, volevamo innanzitutto ringraziare la Prologo di Platania per averci coinvolto come ASD Platania Calcio a partecipare a questa giornata del Festival delle Erranze, questa edizione invernale. Abbiamo collaborato insieme a tante altre associazioni di Platania, c'era un clima bellissimo, eravamo in questa cornice spettacolare di Panetti che è stata rivisitata quest'oggi in maniera molto diversa ed è stato davvero piacevole non solo come membro dell'ASD Platania ma come platanese partecipare qui a questa serata. Ovviamente l'augurio è quello di una collaborazione per il futuro, ci auguriamo sempre di poter fare queste iniziative che fanno del bene non solo a Platania ma anche, cioè fanno del bene non solo alle associazioni ma soprattutto a Platania in generale. Grazie a tutti! Grazie a tutti.